Quattro mesi di messa alla prova presso la misericordia di Montevarchi e il risarcimento del danno alle parti civili. Questo quanto stabilito dal giudice del Tribunale di Arezzo per il sessantenne, accusato di aver ucciso una gattina di sette mesi con un colpo di carabina. L'episodio risale al dicembre 2020. La micia fu trovata a Levane dalla proprietaria, riversa a terra in fin di vita, in una pozza di sangue. Inutile la corsa al pronto soccorso veterinario e l'intervento d'urgenza. Un pallino aveva infatti attinto gli organi vitali e per la piccola gatta non era stato possibile fare nulla. Immediate le indagini dei carabinieri che riuscirono ad individuare il responsabile, un residente della zona che in più circostanze, secondo gli inquirenti, avrebbe manifestato insofferenza nei confronti degli animali. I militari gli sequestrarono anche una carabina e due pistole, tutte armi ad aria compressa, legalmente detenute e potenzialmente compatibili con le ferite che avevano portato alla morte la gattina. Lo scorso gennaio all'avvio del processo, quattro le associazioni animaliste che si erano costituite parte civile, Gaia Animali e Ambiente, WWF, OIPA ed EMPA. Il sessantenne aveva chiesto la messa alla prova ma prima di poter accedere a questa misura che permette di estinguere il reato è stato necessario trovare un accordo con associazioni e proprietari.